e per finire questa serata in bellezza la buffonata la pagliacciata del processo plus valense nuova penalizzazione 10 punti in meno alla juventus la corte d'appello federale ha deciso 10 punti tolti al club bianco nero che attualmente si trova fuori dalle competizioni europee adesso andiamo ad argomentare ma intanto ti invito a supportare questo video con un bel mi piace ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto ad attivare la campanellina e a seguirmi su instagram link in descrizione allora ragazzi è arrivata questa sentenza clamorosa lasciatemelo dire perché non si possono fare queste cose a due giornate dalla fine del campionato ragazzi a due giornate dalla fine del campionato anzi a tre diciamo a tre due o tre barra tre alla juventus mentre sta giocando la juventus sta giocando la juventus adesso contro l'empoli ma che teatrini sono a prescindere o no se questa sentenza già sia giusta adesso andremo a leggere e le motivazioni ma come si fa come si fa mentre stanno giocando prima che li tolgono 15 poi li ridanno adesso che li ritolgono poi a giugno ci sarà un altro processo per la manovra stipendi ragazzi stiamo andando alla deriva il calcio italiano anzi chi governa il calcio italiano perché il calcio italiano sta si sta tenendo a galla fortunatamente perché vediamo ci sono realtà come il napoli che giocano meravigliosamente squadre che sono in finale di champions league come l'inter di europa league come la roma e di conference league come la fiorentina ma chi li governa questi diciamo la legge del gioco del calcio sta proprio vabbè non mi fate non mi fate dire cose che magari potrei pentirmene perché potrebbero essere usate contro di me io non c'ho manco una lira non c'ho neanche i soldi per prendermi un avvocato perciò fammi star zitto e tranquillo e magari dire soltanto quello che è successo veramente allora l'organo si è riunito online pensa un po online si riuniscono in composizione differente rispetto alla scorsa volta rimodulando la penalizzazione dato che la condanna della giustizia sportiva era arrivata per atti e comportamenti posti in esseri dai propri dirigenti inoltre la corte federale d'appello ha prosciolto dalle incolpazioni ascritte i signori pavel nedved paolo calimberti a assia grazioli venier che qualche parente di mara venier kathleen mary hughes daniela marilungo francesco roncaglio enrico bellano mazza tutta sta gente era coinvolta perciò ragazzi la juventus ha lasciato questo messaggio dopo la sentenza ha commentato sul suo profilo twitter la juventus football club prende atto di questo di quanto deciso poco fa dalla corte d'appello della figc e si riserva di leggere le motivazioni per valutare un eventuale ricorso al collegio di garanzia preso il coni ancora ancora ragazzi scusatemi non me ne vogliate voi della juventus però mi pare una barzelletta sta diventando una barzelletta ragazzi quanto è statuito se sarà sbagliato qui il giornalista dal quinto grado di giudizio in questa al quinto grado iniziata più di un anno fa suscita grande amarezza nel club e nei suoi milioni di tifosi che in assenza di chiare regole si trovano oltremodo penalizzati con l'applicazione di sanzioni che non sembrano tenere conto del principio di proporzionalità ragazzi voglio il vostro commento qua sotto come la pensate tifosi giuventini tifosi napoletani romanisti laziali interisti milanisti voglio sapere la vostra io per me ragazzi adesso dovrò andarmi a leggere le motivazioni nello specifico però è diventata veramente una sopopera è diventata una sopopera non io personalmente non ne posso più non ne posso più per me potrebbero dargli due punti dieci punti 30 punti sta diventando proprio una tarantella come si dice a napoli tattara 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 allora francesco calbo nel pre partita di empoli juve le prime impressioni sono negative non siamo soddisfatti il fatto che la decisione sia arrivata nel pre partita ce lo aspettavamo non ci tocca fare altri commenti adesso non ha molto senso usciremo con un comunicato stampa a breve allora è quello che ho letto io il comunicato stampa ragazzi questa qui questa sembra essere soltanto l'inizio di un'altra telenovela perché qui la juventus andrà per altre vie legali perché ovviamente la juventus non ci sta perché se me ne dà i 15 poi me ne dà i 10 a sto punto non me dà più niente e via stava a posto così con un soffio proprio di polvere finisce questo processo con un battere di ciglio dopo tutto sapete no la juventus ha un bacino d'utenza indescrivibile i tifosi che ci sono in italia ma anche nel mondo della juve sono 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 tantissime quindi la juve non può diciamo scomparire e dal dal piano dal dall'iceberg dalla punta dell'iceberg del 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 calcio ovviamente no bisogna essere sempre proporzionati perché ovviamente loro dicono noi con chi l'abbiamo fatte queste plus valenze ci sono anche altre squadre anche la roma ci metto anche la roma ma ci sono anche altre squadre ho letto dell'atlanta del sassuolo non lo so giustamente loro avevano questo sistema di gonfiare le plus valenze e dice o ci andiamo di mezzo tutti o altrimenti non dovete neanche a noi toglierci i punti non lo so ragazzi io sto facendo sto supponendo una cosa magari pure stupida lo ammetto non entro nello specifico però mi pare che sia diventata una un film proprio già visto e rivisto eppure scadente questo lasciatemelo dire lascia un like per supportare questo video iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto attiva la campanellina e seguimi su instagram link in descrizione commenta questo video voglio sapere la tua ciao